Sì, penso che abbiamo fatto un'ottima partita. Levanto i primi minuti dove siamo stati un po' timidi, poi abbiamo iniziato a giocare abbastanza bene, credo io. Il secondo tempo ancora meglio, diciamo, partita risolta dagli episodi. Purtroppo quando giochi queste partite devi vincere, se no poi è dura. Io ringrazio i miei giocatori, hanno fatto una gran partita, perciò devono credere in quello che facciamo e crescere. Rispetto alle altre partite abbiamo fatto meglio, gli avevo chiesto di crescere ogni partita e oggi l'hanno dimostrato. Poi il campo c'è il portiere che para tutto, c'è di tutto. Se avessimo fatto tre gol avremmo detto bene, non leziosa. Tutto la leziosa al momento che si perde. No, per me anche in dieci, quando siamo rimasti in dieci abbiamo continuato. Per me abbiamo fatto una buona partita, ragazzi non posso dire niente, voglio dire soltanto bravi. La Serenità ha caratteristiche precise, è una squadra molto fisica, ha ottimi giocatori. Ha messo uno sul play nostro e ha giocato con due palleggiatori davanti alla difesa, però alla fine cambia poco. Ha detto, non lo so, bene, il calciatore dice che ha detto poco, l'arbitro dice che ha detto di più. Alla fine è stato espulso e speriamo che gli danno poche giornate. Ormai non si può fare niente, speriamo che una squadrifica non troppo severa. Io sono da parte del calciatore, per me l'allenatore non condivido quello che ha fatto l'allenatore. Per me se uno va a bere una birra dopo la partita, dopo dieci giorni di ritiro, l'abbiamo fatto tutti, anche gente che ha vinto i mondiali. Adesso se uno poi perde, si dà la colpa a queste cavolate. Noi siamo da parte del giocatore, il giocatore è un ragazzo serio, lavora tutti i giorni, ha bevuto una birra con i compagni, pure poco per me. Dove averne due o tre, perché si fa gruppo anche al pub, al bar. Perciò Ghiomber ha giocato oggi, ha fatto una gran partita, ha peccato l'espulsione, ma era sereno perché noi siamo sereni con lui. Sì, perché la partita si era messa nel verso giusto, avevamo preso bene il campo, creavamo, avevamo visto un po' la serenità, un po' in difficoltà. Poi ci è arrivata un'ammazzata, mai vista, un gol. E ti basso un po' un pietrino? Molto, molto un pietrino. Ma gli infortuni sono stati crampi, non sono stati stiramenti o cose. Il campo era un po' nuovo, era un po' soffice, forse abbiamo pagato un po' quello, però bisogna ripartire da cose buone che abbiamo fatto. Adesso abbiamo un'altra trasferta a Verona, partita molto difficile, però a me piace il percorso che stiamo facendo. Magari se portiamo a casa qualche punto sarebbe più rilassante per tutti, però faccio i complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto una partita bella. Grazie. Grazie.